Wabalaba dab 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 e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Trailer Reaction e bentornati nella rubrica Marvel soprattutto. Francamente oggi già volevo far uscire un video in cui mi sfogavo per una supposta trama leaked di Spider-Man No Way Home e poi farò anche quello. Ma adesso, dato che ieri è uscito il trailer celebrativo della Marvel con anche qualche curiosità sulle nuove uscite come Black Panther 2, Captain Marvel 2 eccetera eccetera, parleremo un pochino di questo e un pochino del mio sfogo. Accingiamoci a vedere insieme questo trailer, chiamiamolo così. Stanley Che carino raccoon. Meri Poppins. In ogni sala ragazzi, ero in sala anch'io così c'era stato il boato. Oh, la vedova bianca. Che figata. Stanno cercando di far ritornare l'hype che si era messa in pausa nel 2020 praticamente. Grandissimo Shang-Chi. Che abbiamo già visto di recente nel trailer. E gli Eterni. Spider-Man No Way Home ragazzi, di cui poi parleremo. Love and Thunder. Eccolo qui, Wakanda Forever. E i Marvels. Quantum Mania lo sapevamo. E i Guardiani. Guardiani volume 3. E questo 4 che... Cos'è la fase 4? Ma è qualcos'altro. Ci vediamo al cinema. See you at the movies, come dicono in America. Ragazzi, sono davvero elettrizzato per il fatto che riprenda vita il Marvel Cinematic Universe. Devo dire che questo trailer contribuisce molto a farti ritornare le sensazioni che il Marvel Cinematic Universe ti ha dato in questi anni. Per poterle ricercare di nuovo nei nuovi film che usciranno. Quindi questo, diciamo, trailer celebrativo è stata una fantastica mossa per farci ricordare quanto abbiamo amato tutta questa saga cinematografica durata 10 anni. E per ricordarci che ricomincerà, che sta continuando, che è stata solo messa in pausa a causa della pandemia mondiale. Ma si sa, molti film già dovevano uscire nel 2020, quindi nel progetto era di continuare tranquillamente. Forse, dico forse, con questa piccola pausa tra l'Infinity Saga e quello che ci aspetta, è come se in un certo senso potremmo apprezzare meglio i film a venire. Questa assenza totale di film nel 2020 ci potrebbe far apprezzare di più i prossimi film. Sono molto curioso del titolo di Captain Marvel 2 che è The Marvels, The Marvels con la S che richiama sia il logo che aveva Carol Danvers quando era Miss Marvel, ma soprattutto richiama il logo che attualmente è di Kamala Khan insieme al nome Miss Marvel di Kamala Khan. È il logo che ha sulla sua uniforme, sul suo costume. Quindi sicuramente verrà introdotta Kamala Khan, oltre al fatto che ha una sua serie, verrà vista anche in questo film. Verrà introdotta Kamala Khan e da lì ci sarà il collegamento con Captain Marvel e Miss Marvel. E ci dovrebbe essere anche Monica Rambeau che abbiamo visto in WandaVision. E da lì il titolo, i Marvels. E The Marvels è anche una strizzata d'occhio al dialogo che Carol Danvers e Nick Fury hanno avuto in cucina in una delle scene finali di Captain Marvel 1. Quando Nick Fury dice a Carol Danvers, ma cosa vuol dire Captain Marvel? Sembri quel gruppo musicale canoro degli anni 40, degli anni 50, i Marvels. E non credo sia voluto, però hanno citato un po' questa scena. Per quanto riguarda invece Black Panther 2, dal titolo Wakanda Forever, le voci che girano sono innanzitutto che non ci sarà un recasting, non è ancora previsto un recasting dopo la scomparsa di Chadwick Boseman. E dal titolo pare che parlino appunto di tutta la regione, tutto lo stato, la nazione del Wakanda. Quindi non focalizzandosi prettamente sulla figura di Challa, ma parlando un po' di tutte le tribù del Wakanda. La mia paura è quella che affligge anche il professor Malcolm in Jurassic Park. Cioè, è previsto che ci sia Black Panther sul vostro film di Black Panther? La mia paura è un po' quella, perché per quanto possa essere nobile non fare il recasting, e per quanto sia più importante per l'importanza che ha avuto il primo film, sia più importante fare un film sul retaggio del primo film, che non allacciarsi a una nuova saga fumettistica su Black Panther, che magari al grande pubblico è meno conosciuta. Però, non lo so, mi sembra un po' riempire un vuoto senza nulla di particolare. A meno che appunto non parlino del fatto che anche Red Challa in qualche maniera non c'è più, e che ci sia, diciamo, un trono vacante, e il nuovo Black Panther potrebbe essere interpretato nel Marvel Cinematic Universe, sono nei fumetti, da M'Baku, o tanti parlano anche che potrebbero dire che il personaggio di Killermonger non è deceduto, quindi non è morto come si è visto nel primo film, o almeno sfruttano questa cosa per far diventare lui Black Panther dal momento che ha avuto molto successo la sua interpretazione. Ok, adesso vorrei parlare con voi invece della trama Leaked, delle indiscrezioni su quella che potrebbe essere la trama di Spider-Man No Way Home, ovvero il terzo capitolo dello Spider-Man di Tom Holland, che pare possa appunto comprendere il multiverso, nemici da altre linee, da altre saghe cinematografiche, quindi da altre terre che vengono nella terra del Marvel Cinematic Universe, nonché anche alleati che vengono dal Marvel Cinematic Universe, si parla che ci potrebbe essere Tom Holland, che ci potrebbe essere Tobey Maguire nei loro rispettivi panni, Alfred Molina si è già lasciato scappare, che sarà lui a interpretare lo stesso Doc Ock di Spider-Man 2 nel momento stesso in cui l'abbiamo visto finire nelle acque del fiume, quindi può essere che si crea un portale in quel momento e Doc Ock, che stava annegando nel finale di Spider-Man 2, possa venire salvato perché viene trasportato in un universo dove in quel momento non era sott'acqua e quindi potrebbe salvarsi, sopravvivere e in qualche maniera, non lo so, provare del rancore, non lo so, vedremo come svilupperanno la cosa. Fin qui nulla da dire, fin qui la cosa mi sta, mi eccita, mi fa venire voglia di andare a vedere questo film. Se seguite il mio canale lo sapete che io non amo assolutamente come hanno messo in scena lo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe. Lo Spider-Man di Tom Holland a me non piace neanche un po', non per l'interpretazione di Tom Holland, che comunque recita una parte che è scritta su un copione, ma proprio come gli sceneggiatori hanno bimbo minchiato il Peter Parker del Marvel Cinematic Universe. Quindi immaginate la mia grande speranza in questo terzo film che potrebbe non solo sancire una certa rivalutazione in questa trilogia, in questa prima trilogia, dello Spider-Man di Tom Holland, ma potrebbe anche farmi vedere un po' di più di quello che è successo allo Spider-Man di Tobey Maguire dopo Spider-Man 3 e soprattutto potrebbe dare una conclusione alla trilogia mai completata di Amazing Spider-Man, che a me piace particolarmente. L'indiscrezione di questa trama a Liket però rivela altre cose e la fonte è un utente di Reddit che si è guadagnato la fiducia di questa sua attendibilità perché aveva già svelato, quando doveva uscire la puntata di Falcon e Winter Soldier, aveva svelato lui chi sarebbe stato il cameo, la guest star che si è vista nell'episodio 5, se non sbaglio. Questo utente ha rivelato le seguenti affermazioni. Leggo, eh, perché ragazzi. Ci sarà un salto temporale. Peter Parker in tribunale per cercare di dimostrare la sua innocenza e qui potrebbe esserci per esempio Matt Marto che lo difende. Il multiverso si sta scatenando e ci saranno diversi villain di altri mondi e qui lo immaginavamo, Dr. Strange sta cercando di catturarli e rinchiuderli in una prigione speciale che ha creato. E anche qui ci sta, l'abbiamo visto anche nei fumetti, una cosa simile con Mr. Fantastic nella saga Civil War. La colpa di tutto sarà in qualche modo di Peter Parker, vabbè, va bene, perché ha usato un incantesimo per ripulire il suo nome e questo può avere un senso, può avere un senso anche con la scena che abbiamo visto all'inizio dove ci sono lui, MJ e Ned Leeds nel Sancta Sanctorium di Dr. Strange senza Dr. Strange. E anche lì, vabbè. Quindi può essere che Tobey Maguire, scusate, che Tom Holland, che Peter Parker abbia cercato di nascondere la sua identità grazie a Dr. Strange come nei fumetti, ma abbia fatto qualche casino. Tobey Maguire e Andrew Garfield saranno presenti nel secondo e nel terzo atto del film e ci saranno anche alcune scene con Maguire e Garfield da soli e fino a lì sono contentissimo. L'atto finale del film sarà ambientato davanti alla Statua della Libertà che ora sembra un grande Capitano America con lo scudo. Vabbè, se hanno piegato la realtà ci può stare, ma chi se ne fotte. Ci saranno tutti i villain, e anche lì, cioè tutti i villain si saranno solo nel terzo atto? Mmm, mamma mia, mamma mia. I tre Spider-Man, Holland, Maguire e Garfield e l'oggetto della contesa sarà uno Stark Ark Reactor, un reattore Stark, dei quali i villain vogliono appropriarsi. può avere senso perché se per esempio il Doc Ock del mondo di Spider-Man 2 viene nel nostro mondo e scopre che c'è una fonte di energia come il reattore Stark quando lui appunto cercava di ottenere il potere del sole nel palmo della sua mano, è molto probabile che lui sia interessato alla tecnologia Stark per continuare le sue ricerche e molto probabilmente dato che ci ha speso la vita, ha buttato via la vita, la sua vita, per questo tipo di energia, è fattibile che diventi molto maligno nel volerla a tutti i costi. E qui arriva lo schifo. Tutti i cattivi, tranne Green Goblin di Willem Dafoe, faranno, finiranno nella prigione di Doctor Strange. Vabbè, ok. Il Goblin, ricordo sempre il Goblin di Willem Dafoe, ucciderà qualcuno di importante. Ma buah? Cioè quindi, vabbè, come nei fumetti. Però perché? Avete già fatto la cagata in Amazing Spider-Man 2 di far uccidere Gwen Stacy da Goblin che non era Norman Osborn, ma era Harry Osborn. Ma al di là di quello, non c'è questo inizio di Nemesi iniziale. Cioè, per fare in modo che Goblin diventi così ossessionato da Peter Parker in modo da uccidergli un parente, in modo intenzionale, deve nascere tutta questa Nemesi negli anni, almeno un paio di film io ci metterei Goblin, prima che uccida una persona cara a Tom Holland, a Peter Parker di Tom Holland. Qui invece è molto simile ad Amazing Spider-Man, cioè ci sarà un Green Goblin, per carità interpretato da un Norman, cioè ci sarà un Norman Osborn, che però viene da un altro universo che non conosce questo Peter Parker, può avere risentimento verso il Parker di Maguire, però non ha molto senso. Arriva dal nulla e gli uccide una persona cara. È molto strano. Poi chi sarà questa persona cara? Potrebbe essere MJ, Michelle Jones, e potrebbero, non lo so, tagliarla fuori per far arrivare Mary Jane Watson, ma non ha molto senso. Non credo. Potrebbe essere Ned Leeds? Potrebbe avere senso. Fanno fuori Ned Leeds, che poi magari in un prossimo film torna come Hobgoblin. Quello potrebbe avere senso. Anche perché in questo modo, Peter Parker, orfano del suo migliore amico, potrebbe fare amicizia con altre persone, tra cui appunto Harry Osborn e Flash Thompson e Gwen Stacy, la Gwen Stacy di questo universo che non abbiamo ancora visto, e creare la famosa cricca universitaria che potremmo vedere in un ipotetico Spider-Man 4. Il Peter Parker di Tom Holland, dopo che Goblin avrà ucciso una persona a lui cara, impazzirà di rabbia e arriverà quasi sul punto di uccidere Green Goblin. E per carità, ci può anche stare tutto, ma la cosa che mi ha fatto più ribrezzo è la parte finale. E adesso vi dico perché. Il film finisce con Peter Parker, che finalmente finisce il liceo. Per quello dico, poi incontrerà magari Harry Osborn all'università, come nei fumetti. Tutti sapranno chi è Spider-Man. Cosa? Cosa? Come tutti sapranno chi è Spider-Man? Ma allora voi del Marvel Cinematic Universe siete proprio allergici all'identità segreta e vi fanno schifo l'identità segreta. Peter Parker è l'emblema del supereroe con l'identità segreta. L'avete tolta alla fine di Iron Man 1 con Iron Man che dice io sono Iron Man. E vabbè, ci sta, è un miliardario, non ha affetti, non ha legami. Poi anche nei fumetti, per molto tempo, la sua identità è stata pubblica. Captain America, che comunque anche nei fumetti aveva un'identità segreta all'inizio, poi è stata rivelata, ci sta, è un soldato, non è un supereroe in senso stretto, non è un vigilante, ci sta che la gente sappia che Captain America è Steve Rogers, chi se ne frega se lo sa. Avete tolto l'identità segreta di Thor, Donald Blake, il corpo umano, storpio in cui Thor era imprigionato per punizione, l'avete tolta, l'avete reso una versione Ultimate di Thor, ci stava, benissimo, non è la stessa cosa. Ma Spider-Man, l'identità segreta di Spider-Man, è importantissima, è vero che anche nei fumetti, per un breve periodo, è stata nota, ma non è lì che c'è la magia di Spider-Man, la magia di Spider-Man è il fatto che lui deve tenere tutto in equilibrio, la sua identità segreta, la sua identità di studente, il fatto che ha delle responsabilità verso la sua famiglia, verso la sua zia May, che qua invece è assolutamente indipendente, non ha assolutamente bisogno di un nipote che gli paghi le bollette. Già tutti questi elementi sono stati tolti nei primi due Spider-Man con Tom Holland, se si toglie anche l'elemento dell'identità segreta e lo si fa diventare a tutti gli effetti un Iron Man 2.0, veramente io prendo la benzina e do fuoco al cinema, no, non mi do fuoco io, perché francamente non mi do fuoco per un film, però davvero ragazzi, ma che cazzo fate? Io spero veramente che questa cosa non sia vera, o comunque che sia temporanea, però il fatto che comunque la trama di questo film si basi tutto sul fatto che Peter stesso cerca di nascondere la sua identità e poi il film finisce col fatto che la sua identità la sanno comunque tutti, di certo non mi fa ben sperare che nel prossimo film si risolva e mi fa anzi temere che dal prossimo film in poi l'identità di Peter Parker sia pubblica. e a me a vedere un Peter Parker universitario in cui tutti sanno la sua identità segreta non ha senso, non ha proprio senso. Ragazzi, speriamo... A me già Spider-Man Homecoming mi ha fatto schifo e se volete vedere perché ve lo scrivo qui sotto o ne parliamo stasera in live sul sito Viola perché io non mi stanco mai di dire i motivi per cui non mi è piaciuto a livello di attinenza al personaggio fumettistico e non a livello cinematografico. Cinematograficamente è un bel film, non sto parlando di questo, sto parlando che non è assolutamente attinente al personaggio dei fumetti. In Far From Home hanno un pochino aggiustato il tiro, diciamo che aggiustano sempre un po' il tiro nel secondo tempo del film e anche in No Way Home io credo che vedremo un bel mischiotto, sarà un po' come Carton America Civil War dove in realtà non era proprio un film non era proprio un film su Carton America era un film sugli Avengers, qui non è proprio un film su Spider-Man sembra una specie di crossover in cui si vede una sorta di Spider-Verse anche alla luce del successo che ha avuto Spider-Man Into the Spider-Verse della Sony. Quindi qua lo vogliono fare un po' simile però è proprio questo che manca nello Spider-Man di Tom Holland cioè la personalità, cioè il fatto che lui abbia delle vicende personali importanti qua è tutto un azzuffarsi con mostri alieni o fare cose bimbo minchiose con la scuola non ci sono veri sentimenti che lo attanagliano dentro non c'è qualcosa che gli opprime la cassa toracica è questo che non mi piace di questo Spider-Man. Bene, grazie per avermi seguito fino a qui per aver sentito la mia su queste notizie scrivete qua sotto le vostre opinioni so che tanto non le condividerete ma spate il cazzo comunque l'importante è avere un dialogo civile se volete invece avere una conversazione in tempo reale questa sera sul mio sito Viola giocherò a Marvel Spider-Man e chiacchiereremo appunto di questa cosa di questa trama leak di cosa ne pensate faremo un po' di botte risposta tanto io il gioco l'ho finito quindi sarò in giro per New York a fare delle missioni secondarie non c'è problema se mi perdo in chiacchiera assolutamente quindi vi aspetto stasera all'incirca verso le 10 sul sito Viola trovate qua sotto il link in descrizione io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video vi saluto e vi saluto Grazie a tutti